brum brum vi saluto con il saluto richiesto dall'amico ale che neanche spinto a fare un altro video per giro veloce oggi parliamo del nuovo amministratore delegato della ferrari benedetto vigna viene da stm microelectronics a 52 anni laureato in fisica è stato uno dei fautori del successo dell'azienda brianzola fondatore addirittura della branch in cui lavora un po troppo complicato da spiegare anche da capire una riflessione benedetto vigna rileva john elkan che era amministratore delegato ad interim dopo la defezione di camilleri che era lì in quota lui philip morris quindi lo sponsor tabaccaio della ferrari ma arriva un profilo tecnico non arriva un profilo pistaiolo un profilo di corse come era stato jean todd o come avrebbe potuto essere stefano dominicali che oggi è il ceo della formula 1 quindi non dobbiamo aspettarci degli scossoni delle ribaltoni a livello di scudere a fitrari binotto rimarrà lì a far danni secondo me io sono sempre stato molto critico di binotto ha fatto fuori arriva bene ha fatto fuori una serie di tecnici molto validi che sono magari finiti in mercedes a rendere la mercedes ancora più forte quindi non aspettiamoci ribaltoni questa stagione continuerà a essere un calvario soprattutto con una ferrari carente nel passo gara e poi vedremo il prossimo anno con questo famigerato 2022 che cosa ci regalerà ciao brum brum a tutti